Ciao a tutti, cominciamo una nuova serie di tutorial, non abbandoneremo mai quelli dell'uncinetto però molte amiche mi hanno chiesto di far vedere anche qualcosa realizzato ai ferri mi sembra giusto anche perché sia l'uncinetto che i ferri danno la possibilità di creare cose veramente favolose iniziamo dalle basi ovviamente come abbiamo fatto per l'uncinetto faremo così per la maglia tenendo presente che i punti della maglia base sono solo due, sono il punto diritto e il punto roveso poi avremo una serie di spiegazioni legate agli aumenti, alle diminuzioni però partiamo proprio dall'inizio, partiamo dall'avviatura l'avviatura ai ferri può essere fatta in tre modi il primo modo è l'avviatura semplice che vi farò vedere subito poi c'è l'avviatura a tubolare semplice e l'avviatura a tubolare complessa iniziamo immediatamente con l'avviatura semplice il primo tutorial sarà dedicato all'avviatura semplice la prima parte del tutorial allora noi prendiamo in questo caso io ho preso un paio di ferri del 6 e un filato molto grande per permettervi di vedere bene tutti i passaggi ovviamente gli stessi passaggi voi li utilizzerete per qualsiasi filato voi vogliate usare iniziamo subito con l'avviatura facciamo con il filato un piccolo cappietto così e lo inseriamo nel nostro ferro così il primo punto diciamo facciamo girare il dito nel nostro filato inseriamo il ferro fra dito e filato e togliamo il dito e spingiamo e tiriamo rifacciamo facciamo girare il dito intorno al filato formiamo un'asolina sul dito inseriamo il ferro all'interno dell'asolina leviamo il dito e tiriamo di nuovo e tiriamo giriamo e tiriamo così questa è l'avviatura semplice facciamo più piano giriamo il dito intorno formiamo un'asolina inseriamo il ferro tra il filato e il dito togliamo il dito e tiriamo il filo questa è l'avviatura semplice passiamo adesso all'avviatura complessa l'avviatura complessa sostituisce il primo giro di maglia il primo giro di... il primo ferro per spiegarsi perché avviando noi realizzeremo il primo diritto del nostro ferro vi faccio vedere come si fa questo è un pelino più complicato allora con il po' tenete il vostro filo morbido non stringete mai perché altrimenti perché io vedo per esempio adesso sto insegnando a una ragazza a lavorare a maglia e lei stringe il filo in maniera impressionante no, il filo deve essere semplicemente accompagnato sulla mano non deve potersi muovere in tutte le direzioni quindi voi appoggerete il filo tra il mignolo e il medio della vostra mano in questo modo in modo da tenerlo, da farlo scorrere con il pollice dall'alto verso il basso aggancerete il filo in questo modo vedete? e formate un'asolina questa formate questa quindi dall'alto verso il basso avvolgiamo il nostro filo e giriamo la mano con l'indice della mano inserite lo inserite l'indice all'interno di questa asolina in questo modo sollevate il filo e rigirate la mano così vedete? avete formato un'asola complessa inserirete il ferro all'interno della prima parte dell'asola vedete? è in due parti così inserirete il l'uncinetto scusate il ferro nella prima parte dell'asola dopo di che con la mano destra fate passare il filo sopra vedete? sopra il ferro avvolgete il filo con l'asola così lasciate andare e tirate tutti e due i lati tutti e due i fili sia quello che avete sulla sinistra sia quello che avete sulla destra rifacciamo con il pollice avvolgiamo il filato giriamo la mano vedete? si forma un'asolina con l'indice inseriamo così giriamo il nostro filato in modo da formare questa doppia asola inseriremo il ferro nella prima asola con la mano destra faremo passare dal basso verso l'alto così non così quindi dal basso verso l'alto il filo sul ferro che avvolgeremo successivamente con l'asola vedete? così lasciamo andare l'asola e tiriamo in questo modo rifacciamo passiamo dal basso verso l'alto inseriamo il dito giriamo inseriamo il ferro nella prima asola quella sopra passiamo il filo dal basso verso l'alto sul ferro e accavalliamo praticamente l'asola la prima asola sul filo gettato sul ferro lasciamo andare e tiriamo rifacciamo avvolgiamo una volta che avremo avvolto inseriamo il dito in questo modo giriamo inseriamo il ferro nell'asola sopra facciamo passare il filo avvolgendo il ferro dal basso verso l'alto e accavalliamo l'asola sopra il filo gettato sul ferro e tiriamo in questo modo e tiriamo in questo modo e tiriamo questa è l'avviatura complessa vedete rispetto all'avviatura normale che vi fa questa è l'avviatura che vi ho fatto vedere prima che francamente è la più semplice vedete nella avviatura normale non avete punti sotto invece nella avviatura complessa avete iniziato il lavoro con un diritto un rovescio insomma con una maglia che rende che dà già l'idea di bordino questa avviatura si utilizza spesso e volentieri quando noi vogliamo fare un capo senza bordo come usano adesso le maglie larghe senza bordo in fondo invece questa avviatura si utilizza solitamente quando iniziamo un bordo lavorato con un punto lavorato si utilizza questa adesso vediamo la più complessa delle tre avviature che è l'avviatura con due fili ora vi faccio vedere come si fa poniamo che il nostro lavoro necessiti di 20 maglie anzi di 10 facciamo facciamo prima così almeno il tutorial finisce prima avviamo nel nostro ferro queste 20 maglie l'avviatura la potete fare come volete io preferisco sempre fare questa ma 3 4 5 6 7 8 9 e 10 passiamo il nostro ferro sulla mano sinistra e andiamo a lavorare con il ferro sulla mano destra a questo punto poi vi farò vedere anche le varie tecniche di lavorazione io utilizzo questa quella proprio italiana vecchia maniera poi vi farò vedere anche quella americana prima imparate questa che è più semplice allora a questo punto ovviamente si intende che questo tipo di avviatura la farà chi già sa fare diritto e rovescio poi in un prossimo tutorial vi farò vedere anche come si realizzano il diritto e rovescio teniamo presente che chi si cimenterà nel provare questo tipo di avviatura conosca già come si esegue il diritto e rovescio a questo punto anche se ve lo posso anche far vedere ora non è un problema inseriremo per il nostro diritto vedete noi abbiamo delle asole sul dei punti ad asola sul nostro ferro sinistro inseriremo l'uncinetto c'ho la con l'uncinetto stamattina inseriremo il ferro all'interno dell'asola dall'interno verso l'esterno in questo modo cioè così vedete così questo è il primo passaggio con il filo nella mano destra faremo passare dal basso verso l'alto getteremo il filo sul ferro destro dal basso verso l'alto abbiamo il nostro filo dal basso verso l'alto a questo punto faremo passare in questo modo il nostro filo sulla sull'altro ferro così questo è il diritto rifacciamo inseriamo il nostro ferro nella maglia quindi entriamo dentro l'asola con il filato sulla mano destra lo gettiamo sul ferro a questo punto facciamo accavallare la maglia in questo modo rifacciamo inseriamo in questo modo e questo qui è il diritto comunque poi vi farò un tutorial tutto dedicato quindi facciamo una serie di ferri di andata e ritorno sei ferri in andata e sei scusate tre ferri in andata e tre ferri in ritorno dritto e rovescio abbiamo iniziato con il diritto procediamo con il rovescio quindi questo è il secondo il colore che noi stiamo lavorando il lavoro che noi stiamo eseguendo è quello fucsia quello verde è il filato ausiliario che ci serve per fare questo tipo di bordo che si chiama di avviatura che si chiama avviatura tubolare ed è molto molto importante per quando si vogliono fare dei lavori che abbiano un fondo molto compatto lavoriamo sei ferri di andata tre ferri di andata tre ferri di ritorno quindi sei ferri a maglia rasata la maglia rasata è questa questa qui quella che ha ferri di andata a diritto e ferri di ritorno a rovescio ne facciamo sei terminato il sesto ferro ne eseguiamo ancora uno sempre a diritto quindi in questo modo finiamo di ecco qui terminato il ferro dobbiamo procedere in questo modo allora innanzitutto tagliamo via così il filo separiamo il filo dalla matassa il filo ausiliario che è quello verde io vi voglio semplificare la vita perché questo tipo di chiusura viene fatta solitamente io ho visto tantissimi tutorial che la fanno a due ferri io vi voglio semplificare l'esistenza e la faccio su un ferro solo quindi vi faccio vedere come fare una volta compresa la tecnica poi è semplicissimo inserite il vostro ferro la punta del vostro ferro vedete dove avete fra le maglie verdi spunta spicca quella fucsia che è poi quella che ci serve a noi per lavorare il nostro il nostro lavoro per fare il nostro lavoro inseriamo il ferro in questo punto cioè tiriamo su la maglia che è tra i due punti verdi e a questo punto la lavoriamo a diritto così la maglia che ci troviamo sul ferro la lavoreremo a rovescio oppure a diritto a seconda di come voi volete fare il vostro lavoro solitamente il bordo si inizia sempre con un diritto rovescio poi vi farò vedere anche quello poniamo che noi vogliamo fare un lavoro con un punto elastico quindi faremo un diritto e un rovescio però potete fare anche tutti i diritti o tutti i rovesci a seconda di come voi volete iniziare il vostro lavoro adesso torniamo indietro nel nostro lavoro sottostante e prendiamo la seconda maglia che spicca tra i due punti verdi e la lavoreremo nuovamente a diritto così la maglia che abbiamo sul ferro la lavoreremo a rovescio riprendiamo quella centrale quella sotto e la lavoriamo a diritto quella sul ferro a rovescio torniamo giù prendiamo la maglia tra i due ferri e la lavoriamo a diritto quella sul ferro a rovescio vedete è semplicissimo soprattutto se voi utilizzate un filato di contrasto un filato ausiliario che sia in colore molto contrastante rispetto a quello che state usando per il vostro lavoro vedete in questo caso i punti saltano fuori da soli non c'è bisogno di andarli a cercare con il lanternino vedete tra un punto e l'altro raccogliamo tiriamo su la maglia che c'è nel nel mezzo ecco qui noi abbiamo il doppio delle maglie sul nord vedete il bordo è fatto ora l'unica cosa da fare è togliere via il filato quello ausiliario questo lo leviamo lo tagliate lo sfilate fate come credete meglio togliete via il filato ausiliario questo ve lo consiglio perché mi è capitato spesso e volentieri di fare l'avvio al tubolare di aver dimenticato di raccogliere qualche maglia e quindi una volta ed essere andata avanti per parecchio e poi una volta che ho tolto il filo mi sono resa conto di aver sbagliato e mi si è rovinato il lavoro quindi appena avete terminato di fare il vostro bordino a tubolare togliete subito il il filato ausiliario in modo che vi rendete immediatamente conto se avete fatto tutto giusto oppure no può succedere di sbagliare a me spesso e volentieri ecco qui ora noi abbiamo il nostro tubolare e vi faccio vedere perché si chiama tubolare perché è un tubo vedete e all'interno di questo voi potete inserirci un elastico vedete è un tubicino non so se si vede bene però con questo filato si vede quando magari lavorate un filato più fine non si vede però è molto molto resistente questo è un punto veramente resistentissimo un bordo veramente indistruttibile vi dicevo prima noi abbiamo montato 10 maglie e ora sul ferro ce ne ritroviamo 20 perché ce ne ritroviamo 20 perché questa avviatura va fatta con la metà delle maglie che ci occorrono se noi abbiamo bisogno di 100 maglie per realizzare il nostro capo dovremo montare con il filato ausiliario la metà delle maglie quindi noi monteremo 50 maglie lavorate una volta che avremo terminato di lavorare il nostro tubolare sul ferro avremo le 100 maglie che ci occorrono dunque questi qui sono i tre tipi di avviatura l'avviatura semplice è la prima l'avviatura tubolare semplice è la seconda e questa qui è l'avviatura tubolare complessa questi qui sono i tre tipi di avviatura che diciamo sono più utilizzati nel lavoro a maglia poi ci sono anche altri tipi di avviatura che sono fatti con due ferri questo qui spesso e volentieri l'ho visto realizzato a due ferri però francamente questo è molto più semplice molto più pratico lavorato con un ferro soltanto e direi che è molto comodo e ripeto ed è l'avviatura più solida di tutte quelle che vi ho fatto vedere questo è il nostro primo approccio ai ferri e vi ringrazio come al solito di avermi seguito spero di esservi stata utile e ci vediamo al prossimo tutorial ribadisco il concetto che scrivo sempre al termine dei miei tutorial se voi volete realizzare un qualsiasi tipo di cosa ma non avete idea di come fare lasciatemi un commento sotto uno dei miei tutorial e io farò in modo e maniera di realizzare un tutorial tutto per voi vi ringrazio di nuovo di avermi seguito di sopportarmi vi auguro un'ottima giornata e ci vediamo al prossimo tutorial ciao ciao ciao